Come è la politica culturale della regione campagna? Come è la politica culturale della regione campagna? Come è la politica culturale della regione campagna? Della modernità, dell'attenzione, dei principi di solidarietà e sono fortemente intrisi all'interno di Giffoni e quindi è la qualità oltre che le modalità che sono sicuramente virtuose, ma queste noi le davamo per scontate, è il valore aggiunto che teniamo a rimarcare. Grazie a tutti.